In qualità di ex presidente del coordinamento Comitati Spontanei Torinesi CCST e presidente del Comitato Torino Movimento, faccio presente che abbiamo manifestato più volte la situazione del degrado totale del suc o barattolo in più sedi e ribadisco che al Consiglio Aperto abbiamo proprio parlato della situazione che c'è in quel mercato, per noi resta il mercato dell'abusivismo e di illegalità a prescindere da sempre e da anni, abbiamo fatto più manifestazioni e abbiamo anche parlato dell'aggressività delle persone che partecipano a questo mercato, a noi spiace dire che ciò che è accaduto è come se fosse un qualcosa di annunciato da tutte le nostre manifestazioni a riguardo. Siamo vicini a questo uomo vittima di una politica sbagliata, ma non solo da questa amministrazione, anche dalla precedente e ci chiediamo ora cosa intenzione di fare questa amministrazione a seguito di quanto accaduto. Questo mercato non deve sussistere in nessun posto di Torino perché ovunque si metta porta degrado totale. Noi abbiamo raccolto già da tempo le varie segnalazioni, prima in Corso Novara abbiamo manifestato, poi in Via Monteverdi abbiamo manifestato, poi siamo arrivati a ricevere un sacco di segnalazioni di chi si reca al cimitero, nei pressi di Via Carcano. È veramente scandaloso e l'amministrazione non ci ha ascoltato. Non ho veramente più parole per definire quello che è accaduto. Adesso quest'uomo, quello che è stato l'artefice di questo omicidio, si avvalso pure della facoltà di non rispondere. Bene, qualcuno dovrà rispondere a questa famiglia. Io credo che qualcuno debba rispondere alla famiglia della persona che è stata uccisa. Mi spiace davvero ma purtroppo devo dire che noi l'avevamo detto.